Il nuovo sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, si è dato due settimane di tempo per costruire la giunta alla guida della città per il prossimo quinquennio. Un gioco di equilibri ed incastri fra la rilezione di massa di tutti gli assessori uscenti nell'ultima tornata elettorale ed eventuali rinnovamenti che partono però da un punto fermo, quello di Daniele Vimini che continuerà il suo lavoro d'assessore della cultura in una Pesaro 2024 senza soste. Un incarico di fatto già assegnato in campagna elettorale e confermato in questi giorni. Sono molto contento di questa nuova situazione perché permetterà di poter fare tanto altro lavoro, in particolare negli ambiti che ho sempre curato, quindi della cultura, del turismo, dei finanziamenti europei, ora anche con Ricci in Europa, una squadra che si rafforza nei ruoli e siamo pronti a giocare un campionato ancora più importante. Sono grato naturalmente della fiducia ad Andrea, così come sono grato anche a Matteo per quella riposta in questi dieci anni che tutti assieme ha dato risultati importanti, così come è stato importante sia dalla maggioranza che dall'opposizione il ruolo di Andrea Biancagni e Regione. Quindi è una triangolazione che da questo punto di vista, assieme a tanti altri che hanno concorso i risultati, ha sempre funzionato al meglio. Ora appunto le sfide sono ancora più grandi, c'è un nuovo corso da dare alla città perché ogni sindaco dà giustamente l'impronta che ritiene a una città, quindi lasciandone anche il segno. Per me è una bella sfida fare parte anche di questa nuova organizzazione di giunta. Andrea ha detto che la sua idea è di confermare in parte, in gran parte, quello che è l'impostazione è data, ma questo poi lo deciderà, chiaramente fate le giuste valutazioni nei prossimi giorni. Chiaramente sono grato di questa mia prima conferma che è venuta un po' dall'esito elettorale, ma anche da un ragionamento complessivo di gestione della città che era nato in preparazione della candidatura. Lavoro di Vimini che di fatto non si è mai fermato. La capitale italiana non consente soste e pause, quindi siamo tutti già al lavoro e in cui nei prossimi giorni si aprirà ancora la squadra e penso che sarà una bella conferma al di là dei singoli nomi, però per la città di garanzia, di continuità e della qualità.